Ciao, oggi faremo rischio al gusto, vado a prendere le caramelle Corriamo, corriamo, corriamo Ora arriverò tra due, uno Arrivata, con le caramelle Bene Wilfred, sei pronto? Sì, sono pronto Bene, bene Ok, inizio io Vado a prendere, ah, eccolo qua Eh, devo metterlo qua Qua, dai, dai Wilfred, ma puoi tenere dentro No Vabbè Bene, giro Quella blu Questa qua Allora Sappone, grasso, mirtillo di montagna Questa qua Amore, buntillo di montagna l'altro è Wilfred, lo stesso è buonissimo al Wilfred, questo è veramente spaziale ok, bello, ciao, è maurice, dov'è, con la rosa, chimiche, chimiche vecchide o tutti i frutti, dai, tutti i frutti è beccuta, io sto mangiando ancora la mertilla, è buonissimo, tocca me, togliamo la mia mertilla, blu no è una che non so, no con la blu, bene, è l'ultima, bello tu che schifo will fan sei felice che non fatti buonissima yes 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 bene dove la ruota è quella di nuovo di un nuovo club quella questa storia che schifo che schifezza nicole chissà bene 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 questa canale si rompe eh 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 finisci qua sul mio canale non sul tuo quello che fate bene allora ora ci diciamo la nostra prima challenge ora ci rimane una galla a me con la galla o magari o perchè quello che fa un buono un limone, un limone, un limone, un limone, c'è una galla, quindi, chimica o frutta, questo è chimica, manca questa, madera di frutti, ok, si, vedi, si, 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 ok, grazie. Se vi è piaciuto questo video mettete un like per Wilfred che è venuta la buona caramella. Ciao ciao.